Il Gran Piemonte, erede della tradizione del Giro del Piemonte, è tornato. Dopo due anni di assenza, 200 atleti in gara, 185 chilometri di tracciato misto, per una corsa storica, arrivata alla sua 99esima edizione. Strade che attraversano una terra antica, tra castelli, verdi vallate e laghi glaciali dominati dal massiccio del Gran Paradiso. Una pioggia implacabile costringe ad aumentare la concentrazione. C'è chi abbandona e chi stringe i denti. A 5 chilometri dal traguardo, arriva l'attacco decisivo del belga Jan Bachelantz. Primo al traguardo in solitaria. La gioia che ripaga ogni sacrificio. Vincenzo il Giro del Piemonte! La Bachelantz! Partire a 7 chilometri dall'arrivo, sul piccolo strappo puoi tenere, non è facile. L'ho fatto, sono contentissimo. La Bachelantz! Grazie a tutti.